Sono almeno 5 gli articoli della bozza della legge di bilancio che riguardano più direttamente la scuola. Bozza che nella giornata di mercoledì 18 è stata presentata ai sindacati della scuola, che per il momento non hanno però ancora espresso una posizione unitaria. La misura più importante riguarda il piano pluriennale per l'assunzione di 25.000 docenti di sostegno in organico di diritto, piano che sarà accompagnato anche dallo stanziamento di appositi fondi per la formazione del personale docente sulle tematiche dell'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità e per l'acquisto di ausili didattici. Per la scuola dell'infanzia sono previsti mille docenti in più per l'organico di potenziamento e vengono confermati anche i mille assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure introdotte nel primo periodo dell'emergenza e ora definitivamente stabilizzate. Confermata anche la trasformazione da tempo definito a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex LSU. Ma ci sono anche altri stanziamenti importanti, a partire dalla edilizia scolastica. Si parla di più di un miliardo e mezzo di euro e al provvedimento si aggiunge anche la proroga di un altro anno dei poteri commissariali dei sindaci di comuni e città metropolitane, in modo da garantire una rapida realizzazione degli interventi necessari. 60 milioni vengono destinati alle attività connesse alla realizzazione del sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni e poco meno di 120 saranno assegnati al fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole istituito alla fine degli anni 90 con la legge 440. 40 milioni saranno destinati alla digitalizzazione delle scuole e alle attività degli animatori digitali e delle equip di docenti che si occupano della attuazione del piano nazionale per le scuole digitali. Ai trasporti scolastici saranno destinati 200 milioni alle regioni e 150 milioni ai comuni, mentre 50 milioni serviranno per migliorare ulteriormente il cosiddetto sistema duale formazione professionale apprendistato. Per il momento, come abbiamo già detto, non c'è ancora una presa di posizione unitaria di tutti i sindacati del comparto, ma va segnalato un comunicato della FLCCGL che si dichiara delusa. Ci aspettavamo una manovra più coraggiosa, sostiene il segretario nazionale Francesco Sinopoli, perché in questa fase sarebbe necessario un intervento più ampio e incisivo. La FLC sottolinea anche che nella manovra non ci sono risorse sufficienti per un rinnovo contrattuale degno di questo nome, tanto che gli stipendi europei di cui si favoleggia da anni rimarranno ancora nel libro dei sogni. Anche Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, parla della necessità di risorse adeguate per il rinnovo del contratto scuola. Per il momento, però, nessun sindacato del comparto parla apertamente di mobilitazione o di sciopero, anche se proprio pochi giorni fa i sindacati del pubblico impiego aderenti a CGL e Cisle Will hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 9 dicembre. Ma la situazione è molto fluida, già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Il tema è molto caldo, come potete immaginare, quindi continueremo a tenervi informati. Seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.